L'importanza del volontariato di protezione civile, la manifestazione generale prevista per il 28 marzo a Pescara, nonché la redazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici, strategia che richiede una forte condivisione tra i decisori politici a livello nazionale, regionale e locale. Su questi aspetti l'assessore regionale alla protezione civile Mario Mazzocca si è confrontato questa mattina con Franco Gabrielli, capo dipartimento nazionale della protezione civile, all'atere dell'incontro previsto nella sala consigliare del comune di Avezzano. Al convegno organizzato dall'istituzione del centenario del terremoto della Marsica sul tema attivazione del piano intercomunale di protezione civile, hanno partecipato anche il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e il prefetto dell'Aquila Francesco Alecci. Riteniamo fondamentale per la giornata odierna, ovvero di tentativo ormai già in stato di avanzata definizione, di mettere insieme le forze, creare si energie e cercare di rispondere al meglio a un evento naturale che ha connotato un po' il carattere di tutti noi abruzzesi. Continuare ad affermare la cultura della prevenzione e della protezione civile nelle nostre comunità, nel nostro comune vivere e nella nostra socialità.